I 5 Stelle incalzano il Consiglio regionale sui costi della politica e presentano una proposta di legge per tagliare i vitalizi degli ex consiglieri e le indennità di quelli attuali in maniera ben più consistente rispetto a quanto fatto con l'ultima legge approvata in Consiglio. Il lavoro fatto del Consiglio regionale è insoddisfacente in quanto il taglio che c'è stato è un taglio a parte risorio perché si parla soltanto di 700 mila euro a fronte di 18 milioni che si spendono per il Consiglio regionale, quindi per i consiglieri e per i vitalizi dei consiglieri, quindi veramente poco ed è destinato a durare soltanto due anni, fino al 2019, fino all'anno delle elezioni. Noi abbiamo proposto qualcosa di diverso e strutturale che comporta non soltanto il taglio dei vitalizi degli ex consiglieri regionali del 40% ma anche delle indennità attuali dei consiglieri regionali. A brevissimo partirà poi la raccolta delle 5 mila firme necessarie perché la proposta di legge arrivi concretamente all'esame dell'Assemblea. Noi abbiamo depositato già 500 moduli, verranno avidimati dai funzionari, tra qualche giorno ritireremo i moduli e faremo dei banchetti per raccogliere le 5 mila firme richieste. Abbiamo sei mesi di tempo per farlo ma sicuramente ne impiegheremo molto meno. A breve quindi saremo presenti nelle varie città della Calabria con i nostri gazebo e chi vorrà potrà firmare e sottoscrivere la nostra proposta, quindi siamo sicuri che i cittadini ci daranno una mano. Riccardo Tripepi per la CNews24